Il suicidio è una seria, ho capito che il suicidio è una cosa seria, quindi ricordatevi, se le prendete per una cosa seria, sarà una cosa seria, capite? E' sempre una soluzione, ricordatevi, ricordatevi quest'altra cosa, chi studia PNL lo sa, la mente fa sempre la cosa migliore per sé nel momento in cui sta per quello che sa, ciò vuol dire che se uno si suicida, per lui in quel momento è la cosa migliore, basandosi su ciò che sa, è nel momento in cui si trova, punto, basta, quindi non è un problema di giudizio o di giustificazione, chi rimane vivo si dovrebbe chiedere perché il suicidio era la cosa migliore per lui e si dovrebbe fare due domande, basta, molto semplicemente, quindi lui ha fatto la cosa migliore per sé, Ovvio che, attenzione, la frase dice, fa sempre la cosa migliore per lei nel momento in cui sta per quello che sa, cioè per ciò che conosce, aumentate le vostre conoscenze, farete scelte diverse, ricordo che alla base di tutto c'è sempre la conoscenza, più conoscete, più scelti avrete, se io non so comunicare qualcosa a qualcuno, che ne so, mio padre mi impone di fare il dentista, il dentista, perché lui fa il dentista, a me non me ne frega una mazza di fare il dentista, voglio fare il pittore, però mio padre, un padre padrone, non riesco a dirgli di no, e allora come cazzo faccio? Devo fare per forza il dentista, a me non voglio fare il dentista, quindi che cosa faccio? O imparo una comunicazione diversa, o imparo ad avere coraggio, imparo a farmi rendite da qualche altra parte così non mando a fanculo e me ne vado da solo, imparo mille altre cose così che mi posso liberare da mio padre che mi vuole imporre la sua volontà, oppure se non ci riesco vuol dire che non conosco niente di meglio per poterlo fare e mi suicido, basta, è il problema, sai quanti non conosciuti così? Tanto tempo fa che poi si sono ammazzati, che devo fare? Cioè, se non hai il coraggio di farlo, se non hai modo, coraggio e conoscenze per poter risolvere un problema in una determinata maniera, lo risolvi così, basta. Perché devi dire una cosa seria, bella, brutta? È una soluzione, come tante altre, che problema c'è? Anima ed ego, vanno in conflitto anche nel caso in cui decide di ammazzarsi? Boh, che ne so, dovremmo gli adegli da lui. Ma l'anima non gliene frega niente ragazzi, cioè l'anima, anzi, se ti levi dalle palle in questo corpo che non sei riuscito a... Cioè, se in questa vita hai deciso di non studiare, quindi non superare il tuo... Il... La tua università che hai scelto, se ti levi dalle coglioni è meglio, se si prende un altro corpo e vai avanti così. Anzi, spesso e volentieri è proprio lei che lo... che lo... che lo decide. Cioè, se capisce che non c'è speranza, vai, togliti dalle palle, via. Cambio... cambio cappotto, capite? Cioè, comprendiamoci, se... è come se io comprassi un cappotto, ok? Se mi rendo conto che questo cappotto non mi va, mi stringe, mi dà fastidio, che faccio? Lo cambio, no? È ovvio, è una cosa abbastanza ovvia, l'anima fa la stessa cosa. Prende il proprio cappotto, che è fatto di carne, organi, sangue, capelli, eccetera, e se non gli sta più bene lo cambia. Molto semplicemente. Che problema c'è? E... la mente comanda se vuole, comanda l'anima, comanda... comanda l'ambiente circostante, quindi... Cioè, potete fare quello che volete. Cioè, potete fare quello che volete.